Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui, ritorno di su Clash Royale come nell'ultimo episodio con ben due obiettivi, uno che sicuramente ci porteremo a casa, ovvero quello di andare a potenziare una nuova carta fino a livello Elite e l'altro obiettivo che nell'ultimo episodio di Clash Royale non siamo riusciti a portarci a casa, ovvero quello di puntare alle 8000 coppe ci mancano 6 trofei questa volta, l'altra volta effettivamente eravamo un po' più lontani, vediamo se questa sarà la volta buona prima di continuare con il video però ovviamente come al solito vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGY, intitutto attaccato a uno shop di Clash Royale fondamentale per supportarmi, ogni settimana scade quindi poi lo dovete reinserire, grazie proprio di cuore a chi lo farà lasciando un bel mi piace per supportare il video e iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto e dobbiamo andarci a shoppare l'offerta da 50.000 carte Elite, o meglio Jolly Elite perché con l'ultimo episodio eravamo rimasto veramente a secco di Jolly Elite e quindi questa shoppata ci dà un attimino ovviamente una mano la carta in questione che voglio potenziare è ancora una carta di questo deck ed è proprio la scarica nel video dell'altro giorno l'ho ripetuto più e più volte che se avessi potenziato subito la scarica a livello 15 l'altra volta ci avrebbe dato una mano incredibile, spero che anche questa volta ce la possa dare abbiamo praticamente quasi full maxato il nostro deck con cui stiamo puntando a queste 8000 coppe staremo a vedere se poi potremmo puntarci anche alle 8500 e poi alle 9000 dato che comunque ad agosto ci sarà un bel bilanciamento e potremmo dover dire addio a Gigante Royale e Arciere Pirotecnico ma staremo a vedere e ne parleremo più avanti anche perché non abbiamo ancora raggiunto neanche le 8000 coppe quindi apriamoci un paio di chest così tanto per farci spazio negli slot e possiamo partire per questa fantastica avventura ovvero quella che potrebbe essere l'ultima partita delle meno 8000 coppe diciamo così, oh mio dio, Medimenez che è già ad 8000 coppe ed è un livello 14 quindi per noi parte subito molto bene la situazione però se lui è già ad 8000 coppe qualcosa vorrà pur dire lui probabilmente ha un deck molto simile a quello che ho io con cui scalo le leghe anche se ancora non ho iniziato a scalare le leghe lo sapete che prima mi volevo concentrare a fare le 8000 coppe partiamo con una bella fenice lui parte con un minatore colossale di là io metto un mini pecca, un, sì, un mini pecca di qua perfetto vediamo se gli spaccamuro al 15 vanno dai uno, dai, però di là che ripartenza regà di là eh signori miei, questo è un gran bel vantaggio per noi se avessi usato la scarica mi ero anche fatto la torre se avessi usato la scarica mi ero anche fatto la torre perché questi goblin ragazzi noi li one shotiamo con la nostra scarica quindi sì, potrebbe darci una gran bella mano oggi la scarica qui regà sì no, serve assolutamente la scarica per farmi la torre perfetto aspettiamo un attimino perché lo sapevo che lui poi avrebbe giocato qualcosina andiamo di arciere pirotecnico che con il suo rinculo poi si allontana dal minatore colossale questa è stata una gran bella giocata e ripartiamo di là molto bene in realtà questa partita non poteva iniziare meglio non poteva iniziare meglio questa partita però manca ancora un po' eh manca ancora un po' non abbassiamo l'attenzione ok eh ragazzi quella lì ovviamente proprio senza ombra di dubbio anche con i goblin ci portiamo via tutto lui qui utilizza il minatore colossale io faccio una cosa di questo tipo almeno ci portiamo via il minatore colossale che se ne va addirittura all'altra parte ma con le guardie non abbiamo alcun tipo di problema e qui ragazzi lui si arrende addirittura si arrende signori allora ovviamente noi qui abbiamo avuto lo stragrande vantaggio delle truppe al 15 non lo metto in dubbio sicuramente va benissimo siamo tutti d'accordo ma per come ha giocato lui questa l'avremmo portata a casa anche con le truppe al 14 proprio tranquillamente e un po' mi dispiace perché un senso alle mie scioppate glielo vorrei dare no? che ne dite? cambiamo dunque arena cambiamo prente arena dopo poco più di un mese che eravamo passati alle 7000 coppe andiamo alle 8000 qui dobbiamo ancora ritirare tutto quanto va bene abbiamo i potenziamenti accelerati per quanto riguarda i bauli perché abbiamo cambiato arena ma tanto poco ce cambia sì ovviamente sto lì per poter prendere jolly elite ma ormai ragazzi in quelle ceste ci sono talmente pochi jolly elite che non voglio dire che quasi non ci servono però insomma lasciano un po' il tempo che trovo la cosa importante è trovare campioni e leggendarie e abbiamo ancora un sacco di bauli jolly da aprire comunque prima partita sopra le 8000 coppe nonostante comunque prima l'abbiamo beccato oh mio dio che sfiga qui ci ha detto un po' male regà eh potrei aver fatto una giocata un po' azzardata però almeno abbiamo attivato la torre centrale qui i goblin potrebbero essere un problema in realtà soprattutto se in combo con il minatore quindi abbiamo fatto bene a fare proprio una robettina del genere qui arrivano un paio di hit ma va bene allora per come era partita male va più che bene va proprio più 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 che bene qui ovviamente anche lui si fa attivare la torre centrale noi diciamo addio entrambi ai nostri arcieri pirotecnici e va bene va bene va bene va bene ovviamente è un po' in vantaggio lui noi dobbiamo recuperare probabilmente noi però siamo leggermente superiori di elisir ma non lo so vediamo vediamo allora lui non gioca nulla la pirotecnica l'ha già giocata quindi vado di spaccamuro regala scarica al 15 non li one shotta e in realtà serve comunque una doppia hit la torre eh cioè se vi ricordate bene l'altro giorno ragazzi comunque serviva la doppia hit la nostra cara torre nonostante cioè allora alla fine della fiera la fenice non resiste l'uovo della fenice non resiste comunque ai colpi della torre perché comunque non resiste ai colpi della torre anche se è al 15 contro quella al 14 gli spaccamuro resistono alla scarica di livello superiore quindi è stata inutile portarla al 15 insomma sì ti danno dei vantaggi ma fino a un certo punto pensavo un po' di più speravo un po' di più così da poter raggiungere poi il prima possibile anche 9000 coppe che poi quelle sono l'obiettivo finale però intanto pensiamo a raggiungere le 8500 ah noi qui intanto ci siamo portati abbastanza avanti lui ha un deck che praticamente mi sembra uguale a quello che volevo utilizzare io per quanto riguarda le leghe io qua vado di scarica molto serenamente contro quei pipistrelli speravo in una hit del oddio uno ha tirato la hit speravo in una hit del mini pecca che però non è arrivata va bene ok lui pipistrelli in realtà l'ha giocati un pochino tardi qui in realtà posso provare di spaccamuro vedere lui come si difende va bene mini pecca no non l'ha tirata la hit e vabbè qua è praticamente non voglio dire inutile però no mi sai non l'ho presa la torre con la fireball e invece si e invece si e invece si e e qua la scarica al 15 ok si è fatta sentire regà una bomba signori una bomba altre coppie per noi altra vittoria a questo punto proviamo a sfruttare questo filotto di vittorie ne tentiamo un'altra siamo così coraggiosi quest'oggi non lo so io direi di sì cioè stiamo andando veramente belli cattivi eh stiamo andando veramente belli cattivi a questo punto io vi direi di più andiamo ad utilizzare anche una bella chiave dato che abbiamo l'accelerazione della nuova arena e quindi togliamo anche questo qui dalla coda ne mettiamo un altro e ci facciamo anche proprio un'altra battaglia vediamo un po' vediamo un po' dobbiamo dobbiamo sfruttare queste situazioni nel miglior modo possibile ok 8030 coppe per lui 8030 coppe per lui stiamo attenti bella fenice da dietro vediamo un po' anche lui livello 15 mastino eh lo sapete che però il mastino potrebbe essere una bella rottura di scatole dipende da che deck ha ecco dipende moltissimo da che tipo di deck lui possa avere questa ragà gliela devo togliere assolutamente subito perché potrebbe rivelarsi una rottura di scatole incredibile la macchina volante ragà è clamorosa io qui faccio una cosa di questo tipo per forza e vi posso dire che comunque abbiamo sia limitato i danni anche se mo dagli eh dai cosetti dai figlioletti del mastino un po' di hit arrivano niente di che però intanto ci siamo fatti anche attivare la torre centrale regà la macchina volante dobbiamo stare un sacco attenti alla macchina volante poi lui c'ha il drago infernale c'ha anche il cuccio di drago un po' strano il suo deck o sbaglio cioè praticamente è fatto di sole truppe aeree o sbaglio ok mazza l'ho chiamato quindi dovrebbe avere anche il boscaioler cioè il la la mongolfiera scusate dovrebbe avere anche la mongolfiera va bene va bene va bene anche con quei barbarelli perché adesso con l'arciere pirotecnico se lui non si inventa la giocata della vita dovrei ripulire tutto quanto va bene perché io tanto metto le guardie il drago infernale sta lì un quarto d'ora e guardate un po' che faccio eh ho lui che si inventa tanto lui c'ha tutte le truppe aeree regà perché me gioca c'ha tutte le truppe aeree cioè per forza vabbè ok va bene va bene io devo utilizzare nella maniera più attenta possibile la fenice che ci può dare una mano contro tutte le sue truppe sostanzialmente lui ovviamente attacca da destra che c'ha la torre più hittata per quanto riguarda le mie ovviamente io quella la vado a prendere ribadisco non voglio saperne leggere né scrivere contro la macchina volante è proprio una rottura totale di scatole che proprio non voglio avere niente a che vedere ovviamente buonissime le sue frecce qui posso andare di guardie qui posso andare di un mini pecca per fargli prendere i danni puramente per fargli prendere no 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 ho giocato leggermente dietro pensavo è la macchina volante mannaggia la miseria qua ho fatto proprio una pulizia incredibile qui ero riuscito a fare una pulizia incredibile io qui se rischio di perdere è per colpa di quella fireball ma no vabbè non credo qua non gioco oddio no qui non gioco nulla infuriata il cuccio è infuriato il cuccio del drago mamma mia ho cercato di perderla in qualche modo eh ho cercato di perderla in qualche modo ma nonostante tutto ce la siamo portata a casa raga abbiamo fatto clamorosamente quasi 100 trofei in un video con 3 vittorie una dietro l'altra cioè proprio boom 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 abbiamo fatto mi sa 84 trofei una cosa del genere se non sbaglio siamo ad 8080 coppe spettacolare per ora questo deck va vediamo cosa succede nei prossimi bilanciamenti in particolar modo quello di agosto poi una volta che inizieremo anche le leghe pure lì inizieremo a smanettare con i deck ma tanto lì sono tutte portate all'11 le carte vi ricordo ovviamente il codice creatore ggyt tutto attaccato nel shopping clash royale fondamentale per supportarmi ogni settimana scade quindi poi lo dovete reinserire iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto lasciate un bel mi piace per supportare il video per me è tutto ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale ciao ragazzuali